I missionari hanno servito la missione della Chiesa, spezzando ai più piccoli e ai più lontani il pane della parola e portando a tutti il dono dell'ineusaribile amore che sgorga dal cuore stesso del Salvatore. Passione, amore, annunzio del Vangelo e andate avanti. Vi ringrazio per tutto quello che fate e adesso vi do la benedizione. Ma preghiamo insieme la Madonna prima. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Venerita a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amén. Grazie a tutti.